Il segreto della pace è il rispetto dei diritti umani. Penso che, Paolo Giovanni Paolo, se uno potesse, non è che la fatta così breve solo perché doveva entrare in questa medaglia, ma perché la chiude tutto quello che non dovremmo capire a questo punto, il rispetto dei diritti umani. Quindi io la consegno, sapendo che tu mi sarai ottima costruita, perché chi ti viene in questo punto, il rispetto dei diritti umani.